Dopo la conclusione della vicenda legata alla rinuncia di Angelo Serra ad acquisire la delega assessoriale, lo staff di Fabio Termini ha reso noto un altro rinvio per la nomina dei componenti della sua giunta. Inizialmente si pensava che tutto potesse formalizzarsi entro giovedì 30 giugno, poi però c'è stato lo slittamento ai primi di questa settimana, oggi nuovo rinvio a domani, mentre per l'insediamento ufficiale che sarà accompagnato da una conferenza stampa bisognerà aspettare la giornata di venerdì. Sembra ormai scontato il fatto che a sostituire Angelo Serra sarà il dottor Francesco Sabella. Tutto lascia peraltro pensare che a lui possa andare la delega assessoriale al bilancio. Evidentemente c'è ancora qualche dettaglio da definire, non dimenticando che a Fabio Termini dovrebbe detenere per sé ad interim la delega al turismo. Oggi intanto Serra, nell'ufficializzare definitivamente il suo passo indietro rispetto alla disegnazione assessoriale avvenuta il 18 maggio, aveva dichiarato che abbracciare il progetto di Fabio Termini è stata una delle esperienze più intense ed entusiasmanti da lui mai vissute. Mi trovo, aveva giunto, nelle condizioni di non poter accettare la carica, poiché, contemporaneamente alla mia disegnazione, mi è stato proposto un contratto di lavoro del tutto incompatibile con il ruolo di assessore, ruolo che, secondo la nostra visione, osserva testualmente Angelo Serra, comporta un impegno costante e quotidiano che, stando così le cose, non posso garantire. Angelo Serra ha poi avuto parole di apprezzamento per quella che ha definito la genuinità di persone normali, capaci di manifestare volontà e forze straordinarie, capaci di scardinare un sistema per nulla facile da sconfiggere, giovani energie, ha aggiunto Serra, che hanno portato ad una vittoria per nulla scontata da parte di Fabio Termini e che daranno un timbro diverso al modo di amministrare la città di Sciacca. L'avvocato Angelo Serra ha concluso evidenziando che il suo passo indietro non comporterà comunque una rinuncia al suo impegno verso il progetto di Fabio Termine, in favore del quale, annuncia, continuerà a mettere a disposizione tutte le risorse umane e professionali. In attesa intanto della formalizzazione di nomi e deleghe degli assessori, Ignazio Messina stamattina al nostro telegiornale ha confermato la sua decisione di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il risultato delle urne delle 12 di giugno. Quello che lo ha visto fermarsi al 39,9%, con una manciata di voti in più, avrebbe raggiunto quel 40% che, stando a quanto previsto dalla legge, gli avrebbe permesso di vincere, dunque scongiurando il secondo turno, quello che poi lo ha visto sconfitto. Cosa? Il ricorso che Ignazio Messina avrebbe potuto fare solo dopo la proclamazione ufficiale degli eletti e l'acquisizione dei documenti necessari da lui già effettuata presso l'Ufficio elettorale e la Segreteria Generale del Comune di Sciacca. L'obiettivo di Messina è evidentemente quello di sottoporre a verifica minuziosa le singole schede votate dagli elettori in alcune sezioni, sicuramente quelle della sezione 28, nonché quelle della numero 5. Non si esclude che possono esserci ulteriori situazioni che, ad opinione di Ignazio Messina, possono essere meritevoli di approfondimento da parte della giustizia amministrativa. Non è ancora ufficiale, infine, la data del 15 luglio per la convocazione della seduta di insediamento dedicata a giuramento e votazione di Presidente e Vicepresidente del nuovo Consiglio Comunale di Sciacca. Tutto lascia immaginare, tuttavia, che si andrà proprio in questa direzione.